Seconda del ritorno del Play in Silver per il Basketball Club Lucca di Coccio Olivieri, terminate le trasferte pasquali, è giunto il momento in cui sono i biancorossi ad ospitare le franchigie lombardi e piemontesi. Domenica, ore 18, scende a Lucca il Campus Varese, squadra giovanissima con un'età media che si ore 20 anni, impegnata nel campionato lombardo di under 19 eccellenze e contemporaneamente nella Serie B interregionale nel girone A della Conference Nord-Ovest. Il BCL ha già incontrato Varese in trasferta conquistando la vittoria, anche se allora Coccio Roncari aveva fuori per infortunio il forte Jao Eilung, un ragazzo di 19 anni che gira sopra i 20 punti a partite che con molta probabilità sarà invece presente al palatagliato. Il percorso che Varese ha fatto finora non è stato dei migliori, quattro partite giocate e altrettante sconfitte, anche se è sempre stato in partita fino all'ultimo impensierendo non poco gli avversari. Si presenterà al palatagliate con quattro punti ed un'ultima posizione di classifica, una situazione che ormai la vede fuori dai giochi. Per pensare di accedere al playoff, passano le prime due, e soprattutto con una partita in meno, quella che le altre squadre hanno giocato la scorsa settimana, nella quale Varese avrebbe dovuto incontrare lo Spezia Tarros. Ad oggi l'avversaria più temibile per Lucca è in grado di soffiargli il secondo posto della classifica. Per la formazione bianco-rossa è l'occasione di riscatto dopo le due pocenti sconfitte in terra piemontese, subite ad opera del Borgo Manero e in terra lombarda del Gallarate. Tre partite da giocare per Barsanti e compagni e da vincere, poi il 21 aprile si faranno i conti.